Sì, il 7 è il numero della mia male, ho sempre portato da bambino, ho sempre giocato con il numero 7. Milan, Milan, sempre con noi. Il primo si chiama Catarazzo di Iguazù, che è vicino alla mia città, che è a Foz di Iguazù. Il Cristo a Rio di Janeiro, le spiagge, Fernando di Norogna, la mia città, è bellissima, Patubranco, la fagiolata, da noi si chiama Feijoada, è buonissima. E anche la musica, la musica è una cosa molto bella nel nostro paese. Il primo è Pelé, il secondo è Maradona, il terzo è Ronaldo, il quarto è Romario, il quinto è Zidane, il sesto è Van Basten e il settimo è Paolo Maldini. Dormire, sto incominciando a imparare a fare la chitarra, adesso ho anche comprato una cosa per cantare, andare in giro, Mangiare il cibo italiano, che è buonissimo anche ai brasiliani, guardare il film. Numero 7. Guardare il Facebook del Milan. A tutti i viziati del Facebook, entrate nel nostro Facebook del Milan, già siamo a 7 milioni, siamo tutti contenti, aspettiamo ancora di più. Grande abbraccio da Pat. Grazie. Grazie. Grazie.